Salve a tutti, benvenuti a questo tutorial di Ottimizziamo il nostro PC Dopo alcuni video sui programmi per ottimizzare il PC siamo qui per presentarvi un altro programma nello specifico Advanced System Care Advanced System Care è come Glary Utility, è come CC Learn e adesso andremo a vedere come scaricarlo e come funziona Allora, apriamo Internet diamo il tempo di aprirlo è parecchio pesante il mio computer sto facendo questi tutorial dove praticamente mi dà un po' di lentezza allora, ci siamo dai, su, su forza vabbè troviamo un altro ci proviamo, l'home page niente, allora riapriamo, vediamo se magari ci fa ci rifai di nuovo eccolo qua perfetto ogni tanto ogni tanto ci dà un po' di problemucci allora, ricerca con Google e andiamo a cercare il nostro Advanced System Care eccolo qua perfetto allora, come al solito vi posterò il link in descrizione sulla pagina del Download andiamo andiamo a scaricare non il primo dove c'è scritto della www.iobit.com perché ci manderà sulla pagina di html.it se volete vedere e volete provare questa è la pagina di iobit andiamo a fare free download eccolo qua vedete qua ci dovremo fare una piccola registrazione non andiamo a fare questo quindi chiudiamo chiudiamo questa pagina chiudiamo questa pagina e andiamo a fare questa qui la seconda Advanced System Care della cnetdownload.com questa qui nello specifico ok fatto questo dove voi vedete qua vedete bene che c'è scritto Advanced System Care e dove vedete allora chiudiamo dovete andare su Direct Download Link ok sul Direct Download Link vi porta sulla pagina che ve lo scarichi in automatico io l'ho già scaricato infatti se adesso vado sui Download Un attimino e scusate se è un po' lento apro la cartella eccolo qui allora dovrebbe essere questo Advanced System Care un attimino vediamo se è questo ci vuole un po' di tempo scusate ma purtroppo eccolo qua dovrebbe essere proprio questo perfetto eccolo qui Advanced System Care ok questo qui invece è del Gallery sempre della YoBit Information Technology noi cosa possiamo fare in questo in questo caso facciamo questo facciamo un esegui chiudiamo e chiudiamo dai su chiudi tutto perfetto ci vuole un po' di tempo ci vuole un po' di tempo anche perché sto anche registrando quindi la registrazione e l'installazione è una cosa non consigliata non consigliata perfetto allora qua ci dice benvenuti in System Care 6 come al solito avanti contratto di licenza bisogna accettare ci dice dove scaricarlo se voi avete una partizione se avete una partizione del vostro disco del vostro harddisc in C in D in E metteteli dove meglio vi pare ok basta che fate così ok e andate a vedete disco locale eccetera 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 lo cambiate io ho solo il disco C questo qui è un 120 giga soltanto di di harddisc quindi è piccolino non lo ripartisco ho una ripartizione con Ubuntu ma vabbè è un altro discorso voi fate così fate ok ok avanti e qua ci dice che la la cartella in programmi Yobita Advanced SMA già esiste sì perché io l'avevo già scaricato un po' di tempo fa appunto per testare per fare questi video tutorial e si desidera utilizzare comunque io metto sì ok e di conseguenza eccolo qui profete vi dice creare un'icona sul desktop creare una barra veloce aggiungi Yobita ai preferiti io questo qui non lo metto faccio avanti mi fa la sua installazione adesso sicuramente ci dirà ci darà altre cose adesso andiamo a vedere che programmi ci da in più ragazzi mentre aspettiamo l'installazione che ci vorrà pochi minuti il prossimo ci saranno il prossimo il prossimo programma di come ottimizzare il nostro pc penso che sarà wise registri anche questo è un programma di ottimizzazione con un click eccetera eccetera però nel prossimo tutorial lo vedremo allora completata l'installazione ci dirà guarda la cronologia degli aggiornamenti o il manuale utente voi scegliete se se farlo o non farlo se avete intenzione di utilizzare questo programma cioè l'unico vostro programma per fare questa cosa qui che poi alla fine un programma si dovrebbe scegliere ok e cliccate e fate quello che meglio credete per voi allora io faccio no non mi interessano e per il resto ok ci sono due modalità benvenuti al tutorial c'è anche un mini tutorial quando c'è l'installazione direttamente dal dal nostro programma che ci fanno scaricare quindi c'è due modalità incontra le esigenze di tutti gli utenti fornisce una metà semplice utente generica esperto per più esperto informatica vabbè questo è normale protezione della navigazione io il programma lo conosco già il monitor delle prestazioni resta fiducioso eccetera 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 devo dire che questo qui anche questo è un ottimo programma il fix registro pulisce l'entità del registro ridonando ridonanti non valide eccetera 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 e poi c'è anche per cambiare la skin eccetera eccetera noi avviamo ora e questo mi sembra che non ci servi più possiamo chiuderlo eccolo qua allora cominciamo questa è la prima barra è la barra dell'utilizzo della cpu e della ram ok questa vi rimarrà costante aprendola ci sarà praticamente questa schermata ok dove potete fare la scansione potete pulire la ram arrestare il sistema niente di più semplice poi qua c'è la cpu il disco la ram la rete eccetera eccetera però oh noi la mettiamo qua anzi facciamo una cosa la mettiamo su belli che andate allora qua che cosa ci dice vabbè non ci interessa in italiano perfetto è in italiano per cambiare la lingua dovete andare qua su skin mi sembra eccolo qua italiano c'è la trasparenza potete farlo più trasparente meno trasparente io scelgo non tanto poi il nero è solo per per la versione a pagamento dovrebbe essere quindi c'è o nero o classico c'è classico che è questo bianco che è questo a me piace più nero e lo lascio nero quindi allora chiudiamo questo questa è la nostra icona che ci dice com'è il nostro pc riassunto visto che come vi dicevo io lo utilizzavo già con questo programma ci dice un po' di informazioni però andiamo nello specifico allora correggi c'è la rimozione la pulizia internet post questi sono tutti quelli che voi potete potete praticamente fare basta che fate scan qua e lui farà tutto poi strumenti negli strumenti dove c'è scritto pro e pro sono tutti quelli che sono a pagamento quindi sono le uniche abbiamo solo due cose due versioni che non è possibile utilizzare per tutto il resto è tutto utilizzabile io penso che sia abbastanza ottimo anche questo come programma poi c'è il turbo boss il turbo boss cosa sarebbe sarebbe e mi sembra che è quella per ottimizzare e velocizzare il tuo computer e anche forse quella per i giochi non vorrei sbagliarmi non vorrei sbagliarmi se io faccio attivo ok c'è modalità gioco e modalità lavoro voi attivate quella che vi è più più idonea per voi potete attivare anche anche questa o uno o l'altro non penso che ci siano dei problemi e cosa dire eccolo qua advanced system care 6.2 non è solo il 6 perché lui ci fa scaricare la versione più aggiornata settaggi rapidi mi sembra che per i settaggi rapidi anche questo eccolo qua qui è dove praticamente noi possiamo utilizzare è la versione free gli altri invece sono per la versione a pagamento però secondo me quello che ci offre già il programma in versione open search è già ottimo molto ottimo io direi che nella classifica mi rimane difficile fare una classifica per il momento dei tre dei tre sistemi programmi che abbiamo già recensito per il momento tra CC Learn Glary Utilities e Advance rimane difficile mettere qualcuno al primo posto tre ottimi programmi che secondo me non devono sicuramente mancare nel nostro computer sceglietevi il programma che volete poi adesso dovremo andare a recensire altri sei o sette programmi che man mano che andremo avanti lo faremo vedremo lì all'ora di fare una classifica è un punto della situazione quando arriveremo a cinque o sei programmi disponibili per fare una specie di classifica e di recensioni che giustamente male non fanno tanto per capirci anche noi bene tutto quanto e per dare a tanti un servizio un pochettino più specifico per il resto cosa devo dire per il momento è tutto spero di esservi stato utile e di aiuto per qualsiasi problema come al solito mettete i commenti sotto fatemi sapere che tipi di programmi vi serve che tipi di programmi volete che testo prima di installarli ve li installo io faccio tutto io e vediamo come reagiscono prima sul mio computer che è un computer vecchio quindi se reagiscono bene sul mio penso che reagiscono bene anche sui computer meno datati rispetto al mio e niente per il momento vi saluto al prossimo tutorial ciao a tutti